Oggi parliamo dell'Emilia Romagna. Ciao e benvenuti a Oggi Parliamo, il podcast per gli studenti di italiano. Come va? Come stai? Spero tutto bene. Prima di iniziare ti ricordo che puoi supportare questo podcast offrendomi un cappuccino sul mio Patreon dove puoi anche comprare le trascrizioni degli episodi. Aiutami a mantenere questo podcast gratuito e senza pubblicità. Vediamo le tre parole di oggi. La prima parola è palude, un nome. La palude è un territorio in cui l'acqua non viene assorbita dalla terra. L'acqua rimane in superficie. Queste zone normalmente non sono sane. Le persone non vivono in queste zone perché ci sono molti insetti e molte malattie, come la malaria, per esempio. Quindi palude è un nome. C'è anche l'aggettivo paludoso o paludosa. Puoi dire che una zona è paludosa. La seconda parola è bonificare, un verbo. Abbiamo appena visto che cos'è una palude. Esistono delle tecniche idrauliche per asciugare le paludi, per renderle vivibili e coltivabili. Se asciughi una palude, la stai bonificando. Bonificare una palude significa renderla vivibile, renderla abitabile, asciugarla. La terza parola è salume, un nome. Questa è una parola molto importante perché rappresenta una categoria, un gruppo di cose che l'Italia esporta. Un salume è un alimento a base di carne, sale, erbe e spezie che normalmente viene chiuso in un insaccato. Ti faccio qualche esempio. La mortadella, la pancetta, la porchetta, i prosciutti, il salame, il cottechino. Tutti questi alimenti sono dei salumi. Quindi salume è una categoria di prodotti. Ok, siamo pronti per parlare dell'Emilia Romagna. Il territorio dell'Emilia Romagna è occupato per metà dalla pianura padana a nord e per metà dagli appennini a sud. Gli appennini non sono molto alti, raramente superano i 2000 metri di altezza. L'Emilia Romagna è attraversata da numerosi fiumi. Il fiume Po segna quasi perfettamente il confine nord della regione. Nella parte nord-est si trovano le valli di Comacchio, un'area che è stata bonificata e che in passato era paludosa. Il clima è continentale, con nebbie molto fitte in inverno. La maggior parte della popolazione si concentra in pianura lungo la via Emilia. La via Emilia è una strada molto antica, di origine romana, che attraversa la regione da Rimini a Piacenza. L'Emilia Romagna è una regione economicamente ricca. La pianura e la ricchezza d'acqua hanno favorito l'agricoltura. Qui si coltivano frutta, verdure, cereali, barbabietole, viti e riso. È comune l'allevamento di bovini e suini, da cui si producono formaggi e salumi, per esempio il parmigiano reggiano e il prosciutto crudo di Parma. Anche l'industria automobilistica è molto sviluppata. Qui, infatti, operano alcune aziende famose, come la Ferrari, la Maserati e la Lamborghini. Ok, anche oggi abbiamo finito. Se vuoi, puoi seguirmi su Twitter e Facebook e puoi offrirmi un cappuccino sul mio Patreon. Noi ci sentiamo domani. Ciao! 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 Ciao!